Salve a tutti amici recuperiani e benvenuti in questa seconda missione di Skier Non mi ricordo come si chiama perché i nomi delle missioni non me le ricordo Però tanto nel titolo c'è scritto come sempre Che cosa bisogna fare? Innanzitutto bisogna trovare una chiave perché bisogna arrivare in una piccola cabinetta Dove si trova questa chiave? Dove avete visto che c'è il camion Welcome to Tarkov Andiamo in questo cespuglio Dove c'è questo cadavere? Basta che lo lootiate e vi trovate la vostra unknown key Una volta presa l'unon key andiamo nella parte delle fabbriche Semplicemente se volete capire dalla parte dove c'è la shortcut che si apre con la factory Bisogna arrivare dove c'è questa Che questa è la cabina Cioè io la chiamo la cabinetta insomma così E niente, l'aprite, trovate questa piccola giacchetta per terra E trovate il vostro documento esattamente lì sotto Niente, questo video è stato molto veloce perché erano l'unica clip che avevo E secondo me è meglio fare video così corti Mi è stato consigliato magari di fare più missioni in un video Però secondo me è meglio perché Boom io voglio sapere com'è che devo fare quella missione Vado a cercare missione 1 e voi trovate missione 1, 2, 3, tutte separate E quindi non ne trovate 400.000 dovete skipparvi tutto il video per andare a quella che vi interessa E ditemi se vi va bene così Cioè io personalmente lo preferisco, tanto faccio le playlist Quindi niente, io vi ringrazio per la visione Spero che questo video vi sia stato d'aiuto E noi ci vediamo in un prossimo video di qualsiasi altro gioco E quindi niente, vi ringrazio di nuovo e alla prossima Ciao ciao